Sì, non lo so, non lo so, non lo so vediamo che qui lì andiamo a fare un video di rango per mostrare i miti che scatti di loro non va a vedere più meglio più meglio in tutto il youtube di questo video Ese se lo vanno seguros Asi che Pasen e ven Pasen e ven Ok 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 Allora Ok 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 Non è vero che non è vero! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 e questo lo faccio mi chiamare il turnio dragone perché ora è il dragone, io sono il turnio, il turnio dragone venga vamo, il turnio dragone il turnio dragone Come on, come get ridotto! E' un po' di più. E' un po' di più. Non c'è un po' di più però, eh? Qu'è un'altra? Qu'è un'altra? Qu'è un'altra? Un'altra? Qu'è un'altra? Il giro in un'altra? Il giro in un'altra... Il giro in un'altra? Qu'è un'altra, è l'altra? Avocato. no 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!